Signora Luciana, com'è la situazione per quanto riguarda gli esuberi della provincia? Allora, io sono un'operatrice della disabilità sensoriale, lavoro per la provincia di Padova e nel servizio di integrazione scolastica per i minori ipovedenti e ipoacusici e con pluri disabilità. Logicamente le conseguenze della legge del Rio hanno determinato il riordino delle province però questo riordino ricade sulle famiglie e su noi operatori che ci troveremo, pare, già da gennaio senza lavoro e senza servizio. Ieri c'è stato un incontro con alcuni consiglieri di minoranza in Palazzo Santo Stefano e il Presidente Soranzo ci ha assicurato che il servizio dovrebbe continuare nel caso in cui ci sia una proroga per i prossimi due mesi, cioè fino a febbraio, dopodiché non si sa più nulla in quanto mancano le risorse finanziarie. Risorse che dovrebbero arrivare comunque dallo Stato, giusto? E c'è il punto di domanda? Il punto di domanda è proprio questo, togliendo le risorse alle province, le province si trovano a dover gestire dei servizi con i pochi fondi che sono rimasti a disposizione, che penso dovranno essere spalmati sulle funzioni che rimangono alle province. Signora, quanti anni ha di esperienza alle spalle? Perché? Le chiedo questo perché questa esperienza sembra quasi brutto dirsi venga cestinata a un certo punto. Io lavoro da 18 anni, mi occupo prevalentemente di minori ipoacustici e è un lavoro molto articolato, nel senso che a volte ci si limita a dire si va a casa delle famiglie per lo svolgimento dei compiti pomeridiani. Non è così, nel senso che ci troviamo ad affrontare casi più o meno gravi e ci occupiamo non solo degli aspetti didattici ma anche della loro integrazione, delle loro autonomie.